sentiamo la terza serie Irene Burato alla uno Valentina Camborani alla due Artina Favero alla tre Chiara Lucchese alla quattro Margherita Serafina alla cinque Giada Zogia alla sei Giuliana Lancerini alla sette Anna Maria Neamtu in otto Daria Valentina Balicca 1-2-0-1 Corsia 2 Si prosegue terza serie Grazie a tutti